Sarà l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive a decidere se Arezzo o Perugia si giocherà con la presenza o meno dei tifosi ospiti. Dopo la riunione preliminare tra i dirigenti del club Amaranto e i rappresentanti delle forze dell'ordine, adesso la palla passa al Veminale. La decisione è attesa per la giornata di lunedì. A questo punto tra le certezze c'è quella che l'amichevole ci sarà. Resta da capire se la trasferta sarà vietata ai tifosi biancorossi oppure se potranno prendervi parte soli i possessori di tessera del tifoso, con i tagliandi che potrebbero essere messi in vendita in numero limitato. Arezzo-Perugia rientra nell'accordo che un anno fa vide la cessione del difensore Amaranto Salvatore Monaco al club Umbro. L'obiettivo dei due club è quello ovviamente che alla partita possano prendere parte anche i tifosi perugini. La speranza dell'Arezzo inoltre è quella che nel corso del girone di ritorno, quando al comunale verranno Alessandria, Cremonese e soprattutto Livorno, non ci siano restrizioni o vincoli per le tifoserie ospiti.